Era una partita molto tirata, penso che Roma non ha molato mai, abbiamo lottato, giocato di squadra e penso che alla fine la nostra difesa ha fatto la differenza, la difesa e anche l'intensità con la quale abbiamo giocato. Per me era una vittoria molto bella in casa, la prima quest'anno, penso che questo è un passo, però non dobbiamo essere soddisfatti, continuiamo a spingere, a migliorare, allenarci bene e poi vediamo cosa ne esce. Penso che quello che stiamo imparando è che siamo una squadra che deve lottare, poi se giochiamo con Arvelino o giochiamo con Roma, noi dobbiamo fare la stessa cosa, che è lottare, giocare sporco, giocare duri e non dare niente scontato, perché sì, siamo così, penso che non siamo una squadra come Milano che ha talento su ogni posizione, penso che siamo una squadra solida e se vogliamo vincere dobbiamo giocare come stasera. Secondo me il nostro compito adesso è che andiamo lì e cerchiamo di fargli male, perché anche loro non giocano in 7-8, giocano in 5 come noi e vediamo cosa possiamo fare. Dal mio carattere direi che sono una persona abbastanza calma e anche quando sono in campo cerco di capire le situazioni e fare quello che serve. Poi l'emozione è qualcosa che viene e che dà una spinta in più e poi è anche una cosa che può infiammare gli altri, che può dare qualcosa agli altri, perciò è importante di avere le emozioni e per me magari è difficile, però ogni tanto sempre cerco di andare un po' fuori di quello che sono e quando capita un partito come oggi è ancora più bello.